Operazione anti-usura da parte della Compagnia dei Carabinieri di Sorrento e Castellammare di Stabia. Elicotteri e uomini in azione durante le prime luci dell'alba, che hanno portato a sei arresti e al sequestro di beni immobili e mobili per centinaia di migliaia di euro. Da tempo i militari sono sulle tracce del gruppo che attraverso l'attività illegale di prestiti a tassi di interessi esorbitanti ha messo in ginocchio diversi piccoli imprenditori della costiera sorrentina. Situazione che si è inasprita durante il periodo di lockdown a seguito del momento di difficoltà economica vissuto da chi ha dovuto dare uno stop forzato alla propria attività commerciale. Una decina gli imprenditori della penisola sorrentina e dell'area stabiese caduti nella rete dei malviventi. Le indagini, coordinate dalla procura di Torre Annunziata, hanno condotto all'arresto di sei persone.